Con una cerimonia tenutasi nella sala consigliare del Palazzo Comunale, Nuoro ha voluto stringere in un abbraccio questa mattina il concittadino Gian Mario Fancello, atleta della polisportiva Gigliotti, fresco vincitore della medaglia d'oro a Roma al campionato italiano di judo della FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, e della FILCAM, nella categoria 55 kg. È il primo sardo a competere ai campionati nazionali di judo e il primo atleta dell'isola a vincere la medaglia d'oro. È un'emozione, è la prima volta, è un'emozione forte. Da quanti anni ti alleni a judo? Molti anni. Io ho iniziato a fare judo da 13-16 anni. Non nego che ci siamo commossi, perché comunque Gian Mario è con noi da 9 anni. Grazie alla FISDIR siamo riusciti a partecipare, perché noi ci stiamo allenando da 9 anni, ancora non eravamo in nessuna manifestazione, abbiamo potuto fare sport. Solo con la FISDIR siamo riusciti a affrontare il campionato italiano. Soddisfazione espressa nel corso della cerimonia anche da parte di Carmen Mura, che oltre a essere delegata regionale FISDIR è anche nuorese, e che non ha nascosto la commozione nell'aver seguito in diretta e a distanza la prova straordinaria di Fancello, che pratica judo da quando aveva 16 anni e che ha incassato anche i complimenti per la sua tecnica sportiva dalla Federazione Nazionale Judo. Nel corso della cerimonia all'atleta sono stati consegnati dal sindaco di Nuoro Andrea Soddu una pregamena e un volume pubblicato dal Comune sul Monte Ortobene.